www.marizopoli.it, successione, eredità, la notizia è questa, che riporto poi l'articolo del Notario Busani, non è possibile rinunciare l'eredità senza inventario effettuato entro tre mesi, cioè entro tre mesi, dall'apertura della successione o dalla notizia di decesso del Cuius, quindi è necessario effettuare un inventario entro tre mesi e non è possibile rinunciare l'eredità se non si compie questo inventario entro i tre mesi stabiliti, quindi se uno aveva il Cuius, aveva un debito con il fisco, verso il fisco non vale a nulla la rinuncia all'eredità, perché non voglio pagare questo debito col fisco, che sia effettuata dopo il decorso di questi tre mesi, senza aver effettuato alcun inventario, è la sentenza della Corte di Cassazione all'ordinanza numero 36.080 del 23 novembre del 2021. Qui l'articolo del Notario Busani, alla prossima!